Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e bentornati, finalmente, anche se per voi non è mai un bentornati, finalmente, ma per noi sì, perché non registravamo da un mese nella Soulink a Pokémon. Ma che Pokémon, Luke, a che Pokémon? Platino o sbaglio? O nel remake? Non lo so, la raga, non è uscita. Platino, grazie, Luke, per il tag. Bentornati, signori. Vi raccomando, lasciate un bellissimo like, Luke. Quanti like devono raggiungere? Quanti? Quanti? Siamo al stesso episodio, dai, stiamo andando abbastanza bene. Quanti like devono raggiungere? Parole. 400, bravo, Luke. Dendo già, signori, nello scorso episodio, Luke, cosa è successo nello scorso episodio? Niente, ragazzi, praticamente, sono andato tanto vicino a perdere. È un miracolo che siamo ancora qui, quest'oggi, con questo episodio, quindi siamo fortunati. Quindi, signori, mi raccomando, sostenete la serie con un like. Ogni like è una preghiera per salvare la nostra Soulink. Siamo qui ad affrontare Team Plasma. Non so, Teluk, perché io non ricordo bene, ma io ho uno Snabbal e uno Skiplum. Io ho un Lifon e un bellissimo Toti, che sarebbe un Quilfish, quindi molto importante. Vabbè, io ho Grace e Teta, non ce ne parliamo, ne? Allora, ragazzi, abbiamo già sbloccato la storiella della porta dell'impianto Turmine Cazze e Mazzi. Entriamo subito e vediamo che cosa ci serve al destino funesto. Allora, Luke, io so, io, Luke, c'ho la cacca, c'hai presente la cacca, la cacca, proprio. Proprio sta arrivando. Io c'ho paura. Di scomping. Esteban Cooltrainer, che va, eh, chi ho, che chiaramente, chi ho, chi ho, che ho, metta grossa. Siamo bene, io mi dico in questo. Veramente, ce la voglio proprio far vincere. Sto per perdere tutto, raga, qua la clima. A me ha fatto giga impatto, e ho fallito vuoto dentro. Mi ricorda qualcosa quella giga impatto, però dai, metta grossa. Oh, ma, dai, ma, ma, perché devo già sclerare all'inizio di... Cioè, l'ho addormentato, ho fallito, ho fatto giga impatto, l'ho addormentato, sei svegliato, e non lo so, è qualcos'altro? Ho, oppure io l'ho addormentato, quindi proprio una sola, è fatta bene questa, ragazzi, fatta benissimo. Dove l'ha trovato, la sola, è un link del genere su YouTube, in cui facciamo pure le stesse cose, ahia. Ok, stramontate, niente, non ho fatto niente. Ok, ho vinto. Sta finendo male. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto, ho vinto. Ho, i ticco, 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 i ticco. Ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto. Cazzo, ragazzi, purtroppo sono passati mesi e mesi. Vedi che facciamo proprio schifo. Ok, Marco, Luke, il tuo Pokémon preferito, è morto. Sì, è brutto, è brutto. Eh, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Fanghiglia, no, Ferro in megapugno, ole, a casa anche questo Marco, perfetto. Luke, non so te, ma io sto per affrontare quella, quella golosa d'uccelli di una giobbia. Io sto per affrontare la comandante, pure io. Luke, c'ho paura. Mamma, aiutami, ti prego. Allora, affrontiamo questo. Tra l'altro non so perché, ho detto Giovia e Martes questi. Sì, allora. C'ho i problemi. Sai che io, Luke, sai che io mi sono immaginato come comandante una fusione tra Martes e Giovia, tipo con i capelli di Giovia ma col colore di Martes. Sono andato insieme con i comandanti del Team Galassia. Oddio, gli ho fatto veramente, gli ho tirato una testata, ragazzi, che veramente, neanche Zidane gli ha tirato così forte. Ok, lei ha mandato Scorupi, per fortuna, Luke. Danza a spada, no, 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 no. Loppa Panni, sia, lo, bel, bel lustro Panni. Aspetta che adesso gli faccio, gli faccio la festa. Luke, la, uh, brutto colpo. Luke, la, il lover con il la Panni ce lo vedo, raga. Fate, no! L'ho fatto un, l'ho distrutto, Giovia, ho vinto io già, ho già vinto. Perfetto. È morto qualcuno? È morto Tetano. È Tetano chi era? È Schiploom. È meglio che non ti ricordavi chi era. Quindi il tuo Totti. Il tuo Totti è morto, sì, esatto. No, dai, allora non puoi... Mi ha fatto tentennare due volte di fila con cazzo di etere lama, io non ci voglio credere, Luke. Cosa sta... Cos'è? Cos'è? Tre volte di fila! Mi sembra giusto, no, mi sembra giusto. È totalmente normale, Gio. Adesso hai perso tutto, immagino. No, ho vinto. Ma sono in giro con uno snabbal! Oh mio Dio, che è legato al mio Lifron. Meno male che adesso c'è una cattura. E io devo... Non posso più bestemmiare perché ho 16.000 iscritti, ok? Non possiamo bippare sempre perché sennò, insomma... Che poi diventa la egglock con Tia, diventa poi. No, no, però diventa subito un bippo, un bippo continuo. Dio. Insomma, i dislike, quelli belli. Mi sa che una sclerata... Ma che cazzo vuole bell'occhio, scusami. Niente, penso solamente di stracci. Eh sì, ma la malattia proprio doveva pigliarsi. Ancora, cioè entra poi esce! Cioè, bella lì, voglio dire. Oh minchia, che indagine, tre secondi. Sì, ok, hai sconfitti, torniamo dentro. Tandiamoci. Vabbè, mi sembra un po' il... Tipo, buona, tre e tre secondi. Che poi, tipo... Sai, la cosa che mi ha spezzato di bell'occhio è che tipo si vede che in solo ultraluna è un cazzo di sottoposto di merda, tipo... C'hai presente, no? Vero, vero. Cioè, è un sottoposto del cazzo. Allora, perfetto. Luke. Io non so. Ti ha postiato Totti, purtroppo, giò. Eh? Quindi Totti è andato. Ah, cioè, è vero che devo depositare... Totti è andato. Devo depositare Tetano. Lol, lo stavo riportando. Giò, ti vedi quanto finisce che in sei parti abbiamo perso cinque Pokémon, in sei parti. Ah, ma siamo a sei, siamo a sei parti, Lol. Sì, e non è ancora finita la sesta, quindi io farei attenzione. Infatti, stai zitto che non si sa mai. Tra l'altro io alcuni Pokémon li ho messi di arroganza nel box dei vivi quando sono polesemente morti, tipo Agro. Sì, ma va bene così. Ma quanto era forte Agro, Luke, ma mannaggia a te che gli hai fatti morire tutti quanti tu. A parte questa. E quella d'ordine. Era forte. Era. Era. Esatto. Adesso chi tocca a fare la cattura? Ti tocca a gioca. Ti lascio a te, visto che hai perso il Pokémon. Sì, ma... Sì, è il problema che non c'è Pokémon, c'è bella. Allora comincio io. Allora comincio io che non ho 500 di Pokémon. Mamma mia. Vai, Rochett. Trova un bel leggendario che non sia uno spinda. Dai, Rochett. Spinda. Spinda. Cioè, vuoi fare, vuoi fare... Vabbè, dai, Primplup, sono contento. Vabbè, dai, almeno... Cioè, almeno un Pokémon, capito? Cioè, almeno... Non mi... Mi sono occupato al centro Pokémon. Geniale, Rochett. Sì, sì, stupido, però. Cioè, stupido, però. No. Vabbè, vabbè... Beh, Joe, finché fa buon latte, capisci che... Beh, oh, buttalo via buon latte. Ti hai trovato tu. Ci apri una cazzo di latteria in centro. Eh, no, io sto affrontando il campeggista infame che si è messo in mezzo tra me e le catture. Per lui sono le rame. Io c'ho le Pokémon, vai, vai. Per lui sono le catture. Mi servono i Pokémon. No, anche a me se lo... Oh, sì, Luke! Mi si evolve Snubbull. Speriamo che sia qualcosa di buono. Mi si evolve Snubbull in Clickbait. No, 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 no. Cos'è? Un aborto brutto? Spinda? No, non ce la... Cioè, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Questo è un aborto, cioè... Luke, Clifery, non lo evolvo, Clifery. Sì, probabilmente troverai la pietra lunare sulla luna, appunto. Cioè, non la troverai mai. Esatto. 14 di attacco fisico, c'ha solo mosse fisiche. Ok, perfetto. Abbiamo appena rovinato un Pokémon. Abbiamo appena rovinato la serie. Road to rovinare una serie. No, Luke, c'ha 14 di attacco e c'ha solo mosse fisiche. Potente. Potente. Sto facendo la cattura. Dammi qualcosa di buono. No! No, io non posso crederti. Io non... Adesso vedi che è crefable. È grumble! È cazzo di grumble. Va nella Spice is close. Devo ritentare. Che famo? Beh, tu... In Toria no, perché... Perché è Crazy Lock, quindi la Crazy Lock la eliminiamo, starei ora, no? È appunto, appunto. È percato per quello. Oh, bella. Io ho preso... Luke, il lato positivo di avere solo mosse fisiche con 14 di attacco e che per buttarlo giù dovevo proprio impegnarmi. È vero. Gio, comunque sai, io ho preso Primplup, quindi dai. Io ho preso grumble, grazie Dio. Questo oggi. Pokémon fata. Sì, Pokémon fata. Bravo, giro. Allora, se chiamo me femmina, un Pokémon fata lo chiamo blu come quella delle Winx. Lo so se ti ricordi. Mamma mia. Veramente, dopo... Non ho parole, non ho parole. Winx adesso, mi sono arrivati. Siamo passati... Va bene così. Road to fare schifo, proprio. No! Come hai cominciato tu? C'era Sinta qui, c'era Sinta qui nell'Arbata. Dannazione al... Non lo so, non so cosa, vabbè. 8 di difesa. Bello! Però Zid, danza spada, solo mosse fisiche e ha 23 di attacco fisico. Non è scarso se non lo fai, se non subisce colpi. Beh, il mio c'ha 9 di difesa speciale. Quindi direi che... A che livello il tuo? Poi... Palmo Forza. Beh, beh, butta via. Ci può stare. Palmo Forza non è male come mosse. A me piace un casino. Non so cosa ne pensano a casa i gentili telespettatori. Ma sembra... Luca è giurato, sembro. Sì, esatto, ragazzi. Fateci sapere nei commenti con... Insomma, vogliamo vedere... Vogliamo vedere proprio il livello potente, raga. Il potente livello. Il livello. Allora, Luca... Gio che dici? Allora, proseguiamo fino al bosco. Al bosco non so se provarla a cattura o allenarci la coppia, sinceramente. Sinceramente non lo so. Io ho davvero paura di andare avanti io con questo Clay Fairy. Come hai detto tu prima, me la sto facendo leggermente addosso, ma quello è un altro discorso, ragazzi. Non tolgo niente. Agliano Rit di dieci livelli più sotto e non riesco a togliere. Aspetta, devo... Dai, devo trovare... Devo trovare nelle robe dell'MT una mossa speciale. Non posso andare avanti così. Io ho sciolto tutti con botte in testo, ragazzi. Se faccio le testate, veramente spaccherò l'intera regione di sì. Ok, è proprio potente questo uomo. Mamma mia. No, non ce la posso fare. Tu invece ti stai prendendo testate. qualcuno, qualche altro. No, ma stanno prendendo testate me. Il problema è questo. Cioè, ne sono io che sto prendendo le botte. Oh, Gesù. Benissimo. Ok, no. Forse, forse ce la faccio, dai. Ho lato positivo di questo coso, eh? Mi vuole affrontare. Torco, lol. Torco la caso così in giro per i primi percorsi. Bailiff. Eh, merda. E io, Luke, c'ho... Chiara confirmed. Sai cosa? Questo, questo Clay Fairy qua c'è una difesa della madonna, ragazzi. Eh, puntualmente stava per morire. Grazie, eh. Grazie, karma. Praticamente è il muro di Berlino fatto a Pokémon. Beh, sarà molto utile. No, 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 no. Zio, no, ci ha facciato. Che ti ha fatto, tipo? Ci ha facciato e l'ho avvelenato. Ci ha facciato e l'ho avvelenato, zio. Azz, adesso toglierà un botto di più, Gio. Fai, ti dico, solo di fare attenzione, please. E minchia, mi ammazza, mi ammazza, mi ammazza. Fagli tipo, fagli tipo la mossa della vita. Ma Gio 2 ti attacco. Che mossa della vita? Vabbè, vabbè, lo inchi, ti dici, dai, attacca un po' più forte. Lui veniva. Certo, funziona proprio così nel mondo Pokémon. Ragazzi, veramente, il nuovo battle system. Il battle system, il battle system, tipo, tramite il comando vocale. Dai, combatti, combatti. Oddio. Ok, forse ce l'ha. Oh, cazzo, Luke, mi sto per fare un rischio della madonna. Luke, è stato bello. Vuolicarlo, ma niente. Aia, Dragoboide e Dislocking. Cioè, adesso si butta giù, veramente, ragazzi. C'è l'ho fatta, Luke, c'è l'ho fatta. Eh, ho rischiato di perdere l'inferno in un gioco, quindi è legato al tuo... Tutto poco, comunque, si è voluto, se non ricordo male. Sì, 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 io ce l'ho fatta, ma il pelo... Mamma mia. Questa serie, ragazzi, comunque, è un continuo infarto. Mamma mia. Cioè, io non ci arrivo alla fine, ve lo giuro. Comunque, Luke, direi... No, 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 allora, Luke, ci fermiamo al bosco. Ci fermiamo al bosco. Episodio più corto, ci fermiamo al bosco. La cattura la facciamo nel prossimo. Alleniamo l'altra coppia che mi sembra non buona, però. No, no, quantomeno è decente, dai, quantomeno è decente, secondo me. Fammi vedere, ci può stare, ci può stare. Ok, zio, c'ho lanciafiamme speciale. Grazie a Dio, puoi impararla. Grazie a Dio, puoi impararla. Buono, buono, buono. Tolgo, tolgo mega... Cioè, c'era, fin da qui, dappertutto, io che trovo prima, perché si vuole dal 2025. Oh, Luke, conta che in questo momento, più che un'evoluzione, ci serve veramente un Pokémon decente. Cioè, è fondamentale. Pronto per essere usato, più che altro. Eh, sì, 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 no, è fondamentale, fondamentale. Non ce la facciamo, altrimenti. No, Gio, Gio, Tia, Tia con Umbron. Cioè, proprio con Finn, ma poi Tia è arrivato. Tia, potevi dircelo che partecipavi alla serie, noi non ci offendavamo, eh. Oh, Luke, questo Clayferi ha cominciato a fare danno, finalmente. Cazzo, è diventato un Pokémon. È proprio, è diventato fisicamente un Pokémon. Adesso è utile, cazzo. Dai, cosa? Hai laggato come la Madonna? Ho pinta il mio p... Eh, raga, c'è Luke che lagga a casa. Luke che lagga, non si sente più Luke. Non si sente più Rochette. Stai amando il nostro pipugno, eh. Luke, stai laggando la Madonna? Eh, Gio, più che altro è il fatto che anche tu lo stai facendo da un po'. Eh, lo so. Quindi, rip. Mamma mia, la potenza... Ok, dai, dai, si va avanti, si va avanti, raga. Non c'è, non c'è, non c'è spazio per il lag in sta serie. Dai, cazzo, muori. Ole, via, a casa. Io sono fuori dal bosco, Gio, quindi che faccio? Mi fermo qui o poi vado avanti? Eh, io l'ho sbagliato, io l'ho sbagliato strada e sono andato sotto. Io non so perché. C'ho questa mania che devo andare sotto, anziché sopra. Adesso cerco di evitare un po' di allenatori, raga, perché veramente siamo fottuti, altrimenti. Mamma mia. Ah, cos'è? Una bacca palma. Voglio di palma, confirma. Madonna, il meme dell'olio di palma. Minchia, cucchiaio torto, perfetto, raga, probabilmente è passato da qui borghese, è tipo incazzato perché mi hanno fatto un piatto di merda. Allora, devo cercare di evitare sto campeggista. Che andava al ciolo. Aspetta, devo cercare di evitare sto tipo. No, eh, cazzo, ho preso. Vai, vai. Mi ha preso, mi ha preso la cazzo di karateka di merda, Luke. Eh, idem. Mi ha preso la karateka di merda. Bastarda. Mi fa abbastanza male. Allora, abbiamo un problema. Nel senso che... Non ho questi problemi. No, nel senso che è un crowdhunt. Io come mossa speciale ho lanciafiamme. Non gli faccio una sega. Però ce la sto facendo con spaccaroccia. Bella, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Anch'io ce la sto facendo. Livello, cioè... Buono, buono, buono. Let's go. Idrondata è fisica, vero? Mannaggia. Eh, sì. Eh, sì, è fisica. Mi voglio, sì. No, non voglio. Porco. Te sto impazzendo. Sono in difficoltaggio. Ok, no, sì, tantissimo, non hai idea. Allora, fermo. Cresci K, perfetto. Ma Luke? Eh. Ma se c'è la Cresci K. Ma vaffanculo, ho preso la... Se c'è la Cresci K c'è anche la Cresci Z. No, io pensavo ci fosse tipo la... La Nano K, quindi via. Siamo a posto. No, no, no. Allora. No, ok. Perfetto. Dove sei, Gio? No, sto fruttando la campeggista infame che mi ha fatto foca al colpo su Clay Fairy che adesso non è di tipo folletto. Dammi due generazioni che vedi se ti resisto. Mannaggia a te. Comunque giochi... Comunque già sono fuori dal boss. Quindi io non ho più l'entrata a fare. Allora vado giù a prendere giusto un po' di strumenti. Scurable, porco 2. Scurable. Che cazzo se ne fotte di una Scurable? Allora, raga, direi che questo episodio può concludersi qua, Luke. Perché? Allora, abbiamo trovato, abbiamo avuto una cattura, li alleniamo con molta calma. Niente ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invitiamo a lasciare un bel piaccio, commento in descrizione al canale. Anzi, a entrambi i canali, visto che dovete passare anche dal canale di quest'uomo che sta... Aspetta, fammi fare un po' i calcoli da Facecam. Alla mia... Allora, se io sono così, vuol dire che di qua... Alla mia destra, alla mia sinistra. È alla mia sinistra questo. No, aspetta. Vedremo in editing, vedremo in editing, non si sa. Dovrebbe essere alla mia sinistra. Comunque alla mia sinistra, mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, lo trovate in descrizione. Passate dai social, premete la campanella e Luke, noi dove ci becchiamo, Luke? Ci vediamo ragazzi in un prossimo video, quindi... Bye bye. Bye bye.